Pascal Pezzutto, segretario nazionale del sitacato CISAL-SAX, sitacato di arte, cultura e spettacolo. Quelle che dovrebbero essere le vocazioni naturali, naturali, intrinseche alla realtà di tanto, non quella acciaieria che decide, è l'appoggio forte ed incondizionato di CISAL-SAX alla nostra battaglia, che non è solo nostro, di Taranto senza IVA, di Taranto Next Generation del Partito Medellinista, ma è la battaglia dei tarantini e degli italiani che vogliono difendere il diritto alla vita. Grazie. CISAL-SAX, essendo un sindacato, non può fare politica. Io sono qui per un fatto di giustizia e per una grande abitazione nei tuoi confronti, che mi assomiglia un po' al leader dell'Ucraina, che combatte contro tutto e contro tutti, in piccolo lo sei, io ho apprezzato te, ma poi ho apprezzato la logica, ho apprezzato la storia, la filosofia e il titolo di oggi, la bellezza e la felicità. Questo è un luogo per realizzare tutto. Quindi il nostro sindacato, che è arte, cultura e spettacolo, non lo fa per te, per una scelta politica, lo fa perché è in armonia con il territorio e automaticamente tu ci sei. Questo è il mio grande augurio, quindi a di là della politica noi siamo vicini prima al territorio e poi a te che ti sei sacrificato tanto, ma vincerai. Grazie a tutti.